Come è possibile che dalla lotta organizzata dal basso, diciamo così, dai movimenti, movimenti contadini, anche coadiubati dal Partito Comunista, dalla CGL che in quegli anni riprendeva a respirare dopo il ventennio fascista, come si è arrivati alla riforma, cioè alla fine di un sogno, fino a poi invece a perdere completamente di mano la situazione, cadere poi in quelle che era stato un progetto che è venuto dall'alto. Questo non è tutto vero, è vero invece che proprio grazie a queste lotte la classe dirigente borghese, quindi la democrazia cristiana, che allora è il partito maggioritario, che aveva che si esprimeva anche nel governo come capi del governo, capirono che bisognava, che non era più il tempo di traccheggiare, insomma, il movimento per la terra era significato, era un fatto preciso, c'è la volontà popolare di avere la terra e di darla nelle mani di quelle che la lavoravano, quindi toglierla dalle mani della rendita parassitaria, dei feudatari che non trasformavano questa terra, non la rendevano produttiva. De Gasperi fu costretto a fare la legge di riforma, la legge Stalcio di riforma fontiaria, Stalcio perché era, diciamo così, applicava in Lucania, in Puglia, Lucania e Molise, applicava una parte della legge di riforma fontiaria già fatta in Calabria e quindi sarà utile di andare a vedere questa legge come fu formulata. In base a quella legge si stabilì che determinate fette dei feudi venissero tolte dalle mani, venissero espropriate ai feudatari e assegnate ai lavoratori. Per fare questo qualcuno doveva materialmente farlo e allora la democrazia cristiana, il governo decisero di creare gli uffici di riforma fondiaria, l'ente di riforma, creò l'ente di riforma con tutta un'articolazione burocratica che doveva poi curare materialmente fatta anche di tecnici, di agronomi eccetera eccetera, di esperti, ma nel più dei casi di galoppine della democrazia cristiana che dovevano poi materialmente pilotare l'assegnazione di queste terre, le trasformazioni e i criteri di trasformazione. In questa fase si determinava un processo di intervento gattopardesco nel senso che tutto doveva cambiare per non cambiare niente o per cambiare tutto a beneficio di una parte politica. Invece di assegnare queste terre al 100% ai braccianti, ai contadini poveri, a quelli che la terra la sanno lavorare, addirittura si assegnava anche a persone, a famiglie che con la terra non c'entravano niente, che sono calzolai, sarti che venivano selezionati, presi dai paesi e portati sulla terra perché erano quei galoppini che dovevano garantire poi il consenso intorno alla democrazia cristiana. Non tutto fu così fortunatamente perché insieme a quelli parte della terra venne assegnata a contadini autentici, a contadini autentici che la terra la sapevano lavorare. scoprì i primi anni, nel 60, quando sono arrivato io a conoscere la realtà del metapontino, a Poligoro c'erano due poderi contigui lungo la strada che portava al mare, una era assegnata a un contadino, a un comunista di Cerignola, Pasquale Martello, che poi è diventato un leader del movimento democratico di quella zona. Ed era un contadino che lo sapeva fare e in pochi anni ha trasformato il suo podere in un giardino. Andare sulla terra di questo compagno, di Pasquale Martello, significava vedere come doveva essere effettivamente la riforma fondiaria, cioè il bracciante che era diventato proprietario che però aveva trasformato la terra, aveva reso fertile un pezzo di terra che prima non era così, era una landa deserta. Accanto al podere di Pasquale Martello ce n'era un altro assegnata a un certo Castellucci, che era un galoppino democristiano e la differenza tra i due poderi era visibile perché a fianco al giardino di Pasquale Martello c'era questa landa desolata di un podere senza coltivazione e non trasformato perché questo Castellucci tutto era, tranne che un contadino era un fanulluno, un galoppino della democrazia cristiana che non faceva il suo dovere di contadino. Ma dico questo episodio per dare il senso poi di quello che più in grande avveniva e in modo più generale in tutto il territorio del metà pontino e dell'ente di riforma. L'ente di riforma era riuscita a fare questa operazione di discriminazione. Tant'è che, così come ricordiamo, molte di queste assegnazioni delle terre avvenivano attraverso le parrocce, dove si stabiliva a chi doveva essere assegnata la terra. Erano i parroci dei paesi che indicavano ai loro dirigenti, ai loro referenti del partito e del governo chi dovevano accontentare perché erano amici loro della parroccia come si dice. E questo fu uno dei danni che ci sono voluti anni poi per superarle perché poi oggi, diciamo così, il territorio della Exend di riforma è tutt'altro, è tutto trasformato perché è arrivata una classe imprenditoriale nuova, diversa, che la situazione è cambiata rispetto da loro. Ma il punto di partenza è stato quello e quel punto di partenza ha costituito una perdita di tempo di almeno 20 anni per avviare veramente un processo di trasformazione, di trasformazione positiva di questi territori. Nell'ambito del lente di riforma è tutto fusionato con le cooperative. Cioè la lente di riforma stessa faceva delle cooperative, però stabiliva criteri di direzione delle cooperative che erano molte volte sbagliate, anche nelle stesse, gli stessi dirigenti del lente di riforma erano incompetenti, diciamo così incapaci di pilotare un processo di cooperazione, per cui si facevano le cooperative che erano cooperative di produzione al lavoro, non di proprietà della terra, per cui si dovevano, diciamo così, si dovevano stabilire i criteri di acquisto delle macchine, delle semente, di trasformazione. Si sono fatto una serie di errori, diciamo così, infinite da questo punto di vista. Io ricordo che in quegli anni, nei primi anni del 60, quando cominciai a scrivere per nullità, mi sono interessato parecchio di questo problema denunciando i criteri appunto che venivano adottati da queste cooperative che erano pilotate e organizzate dall'ente di riforma, dove il potere, diciamo così, individuale dei contadini non contava niente, per cui la cooperativa stabiliva di coltivare a grano quello che era invece terreno che invece aveva una vocazione a oliveti e quindi si spiandavano gli ulivi per mettere il grano o per altre culture con criteri completamente sbagliati, quindi creando, facendo una serie di errori che hanno pesato poi sulle trasformazioni, diciamo così, culturali di queste terre. Cooperative nel senso che, dici tu, non se ne sono fatte, non si potevano fare, cioè i contadini non potevano mettersi autonomamente insieme per fare delle cooperative fra 10, 15, 20 poderi, eccetera, perché vende riforma e non lo permetteva. Poi sorsi problemi di fare dei consorsi, dei consorsi per creare, che so, delle centrali di trasformazione dei prodotti come avvenne a Metaponda dove si creò la centrale ortofrutticola che fu un fallimento nel senso che si rispondeva a criteri di clientela politica, ma non entrò mai in funzione, si fecero i muri, ma non si riempirono poi di iniziative, perché la centrale doveva servire a utilizzare la produzione ortofrutticola di tanti contadini e assicurare loro, diciamo così, un prezzo, intanto la sicurezza della collocazione del prodotto, perché la centrale doveva avere la capacità di assorbire le produzioni che sono di pesche, di arance, di ortofrutta, eccetera, per poterla poi smistare sul mercato. Tutto questo non è stato mai possibile verificarlo e attuarlo, perché c'erano difette di partenza determinata appunto da questi criteri di clientela politica che era, e poi l'allenda di riforma non voleva mai carpestare i piedi al resto del territorio, nelle mani degli altri proprietari privati che producevano gli stessi prodotti, cioè organizzare la vendita del prodotto di queste cooperative significava impedire agli altri proprietari privati di vendere il loro prodotto e imporre i prezzi di concorrenza, senza concorrenza, quindi c'è questa cosa che non ha funzionato, insomma, e poi questa struttura al passare degli anni si è deperita, non se ne è parlato più, ma tante altre iniziative, tante altre iniziative. L'unica cosa che ha funzionato era l'Aima, nel senso che l'Aima assorbiva il surplus della produzione delle pesche o degli aranci e li distruggeva per mantenere i prezzi alti, i prezzi ed era un peccato perché insomma era il frutto del lavoro di un anno che veniva distrutto, una tragedia insomma. Un po' come avviene con le quote latte o tutte le quote imposte alla PAC europea. Io non so se ora funziona nella stessa maniera, però per anni ha funzionato. Quante volte io sono andato prima per il giornale, per l'unità a fare dei servizi e poi quando lavoravo per la televisione, prima con Telenorbe e poi con TRM andavo a fare dei servizi a vedere queste montagne di arange calpestate dai trattori distrutte e sotterrate oppure di pesche oppure di cavoli eccetera. Cioè invece di creare delle industrie di trasformazione per fare poi, non so, dei succhi di arange, dei succhi di pesche eccetera, degli sciroppi eccetera, si sceglieva la strada della distruzione che era la strada più sbagliata che si potesse concepire e però quella era la politica che passava il convento e quella si è fatta. Grazie. Grazie.